Ok, ciao amici del mondo degli ASMR, dopo svariati tentativi di registrare anche questo video, un semplicissimo video Non vi dico le operazioni che ho dovuto affrontare per arrivare a iniziare anche solo questo video Comunque, un video spaccolato Sto facendo un test, ho alzato il volume del microfono rispetto al solito perché mi sembra che nei miei video sia sempre un po' basso il volume Spesso perché non ho molti momenti di completo silenzio in casa Quindi abbasso un po' il volume del microfono In modo che dopo posso... cioè non mi acchiappa proprio i rumori da troppo esterno Ciao, ecco Adesso però volevo fare con questo video un test per vedere un attimino come può Come vi sembra anche a voi ovviamente Non soltanto un test per me che valuterò io Quindi vi invito a farmi sapere qualcosa qui sotto nei commenti Se notate un po'... Se vi piace di più così, se non cambia niente, se è peggio Che in caso appunto mi adego e poi facciamo Allora, oggi sono qui per raccontarvi, ragazzi, la tanto calamata e attesa storia del computer Allora, cercherò di essere breve perché per me è stata troppo lunga Appunto come vi ho detto da una settimana che... due... no, due settimane che dovevo metterci Per metterlo a posto, per... in qualche modo, no? In qualche modo sistemare la situazione, ecco, diciamo, essere di nuovo operativo Allora, aspettate che mi sono preso il mio... il mio ovvio teino alla pesca Ok, molto, molto meglio, molto meglio Allora, ragazzi, c'era una volta... perché qui si parla che ormai c'era una volta Io... c'era una volta io Mi si è rotto il computer E ok Attenzione che si sta scaldando questo Ok Va bene Fortunatamente tempo prima Qui nel mio paesino Ho conosciuto un tecnico informatico Un tecnico informatico, credo sì Cioè, credo che si dica così, no? Comunque, termini a parte E... Ok Avevo il suo numero di telefono, per fortuna ce l'eravamo scambiati Scrivigli di corsa, ovviamente Guarda, mi si è rotto il computer C'è su questo e questo Potresti controllare Nel senso, se sai Se qui c'è da cambiare un pezzo Piuttosto che... Chiaramente io non so niente Sì, sì, portamelo Ok, gliel'ho portato Gentilissimo E tutto quanto Al che... Lì il computer, praticamente, uno Faceva schifo Due Appunto era... Cioè, non si capiva neanche Cosa fosse effettivamente Ma lì, cioè, dovevo... Per cambiare un pezzo dovevo cambiare tutto Perché faceva veramente... Era un... Un cumulo Di... Rottami Bruciati Ecco Un po' spacciato Mani nei capelli Che non ho E... E ok Testa bassa Ovviamente inizio a organizzarmi In altre maniere Per... Per prendere i pezzi Per costruirmi il computer Allora Al socio qui Ovviamente gli chiedo Ora Appunto non ne so niente Se mi puoi aiutare tu Appunto Come... Avevamo già avviato un po' il processo Di collaborazione Cioè, nel senso che mi aiutava Sotto questo... Su questo problema E... Ok Gli do... Gli do il libro Il libro Gli... Mi dice lui I pezzi che devo prendere Ok Io Praticamente Non avevo... Non avevo tutti i soldi Per prendere i... I pezzi E fortunatamente Ho letto sotto... Gli ho presi su Amazon E sotto... Sotto degli articoli Ho letto Credit line Tipo in pratica Paga... Paga rate Ho letto... Ho letto Cosa Oh mio Dio Se sembrava Al momento giusto Ho letto Wow Benissimo Cioè Wow Cazzo Perché Le rate Mi impiccherei Ma comunque La situazione Ma comunque la situazione era Di emergenza E tutto quanto Quindi ho detto Ok Va bene Allora ho aperto queste rate Avevo tre mesi da pagare queste rate Per prendere il resto dei pezzi Va bene Ordino tutti i pezzi Mi arrivano Era la domenica Anzi no era un venerdì O giovedì o venerdì In pratica Che io ho Che mi sono arrivati Proprio tutti i pezzi E Gli ho scritto A questo ragazzo Che mi ha risposto Domenica Mi ha risposto Domenica Dicendomi E Ah no Guarda io Non Non ce la faccio A montartelo E Neanche Neanche Se mi pagassi Cioè io non avevo sottointeso Che volevo Favori gratis Cioè Lavori gratis O cose ovviamente E Però mi è venuto fuori così Di domenica E il lunedì Entravamo In zona rossa Quindi io non mi potevo Neanche più spostare Panico Panico Che è successo Per fortuna Ho trovato un amico Qui vicino Che avevo conosciuto Questo ancora prima E anche questo qua Già aveva un computer Potentissimo Una cosa fuori di testa 45 kg di computer Grande come me E Ok Dico Proviamo a chiedergli Mamma mia Sì Ok Tutti contenti Mi ha detto di sì Mi ha detto di sì Prova Per fortuna Io abito in una zona Che per raggiungere Casa di questo Mio amico Che A poco più di 5 minuti Da qui In macchina C'è una strada Di campagna Quindi anche se Eravamo in zona rossa Diciamo Non l'ho rischiata Così tanto Perché appunto Non era un motivo valido Il mio Quello di appunto Andare da un'altra persona Per farmi vedere A posto il computer E Però appunto Io ho tutti i miei Lavoretti da fare Tutte robe che sto Portando avanti E Cioè Capisco che non è Non è visto come Un'autocertificazione Però Per me nel senso Ha un valore Vitale E E E allora Me ne sono volato A portargli i pezzi Portargli i pezzi Poi ne mancava un altro Allora vai su Riorganizza un viaggio Per andare su Andare Tornare Evitando di essere Arrestati Ok E Bene adesso non mi ricordo Tipo di particolare Avanti indietro Perché sono Amato Avanti indietro Un bel paio di volte Fatto sta che I punti salienti Da qui Alla fine della storia Quali sono? Allora Il computer In pratica Quando glielo ho portato Che doveva iniziare Finalmente A lavorare Mancava Mancava L'alimentatore Non andava bene E compro E compro l'alimentatore Il raffreddamento A liquido Che non ci stava Perché il raffreddamento A liquido Aveva tre ventole Non ci stava Nel case Del computer Allora Che è successo? Porta Ridarlo indietro Però avevo fatto rate Poi Devo ridare indietro I soldi Mi riscalano Dalle rate Ma io Ho effettivamente I soldi Per ricomprarlo Non li ho Ragazzi In quel periodo Non so dove ho trovato I soldi Per prendermi Il raffreddamento A liquido Ho dovuto cambiare La scheda madre Ho dovuto cambiare Perché era sbagliata Non era compatibile Con il processore Quindi i pezzi Che mi ha detto Questo tecnico Informatico Non era neanche Compatibile fra loro E quello che mi ha detto Mettili a posto Cioè Va che lo puoi fare anche te Il computer Tanto è una cazzata Certo Per te che sei studiato Magari Non lo so La gente è fuori di testa Comunque Questo è quello che è successo In pratica Portandolo a questo mio amico È venuto fuori Ponte un pezzo E il processore Non andava bene La scheda madre Cambia la scheda La scheda madre L'alimentatore Non andava bene Prendi un altro Il 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 Non andava bene L'art disc L'art disc L'art disc Alla fine È stato l'unico pezzo Che ho ottenuto Cazzo Mi dice che non fa bene Neanche quello Alla fine Che non Che non durerà tanto Togli quello Prendi Non uno Ma due SSD 180 euro Anche lì Insomma Sono rimasto Poverissimo Ma A parte che Già ero povero C'è lì Veloce Ragazzi Che Neanche un cocainomane Io Io lì ho trovato I soldi Non so come Magia Magia Ho fatto Starch Ragazzi Poi Quando dovevo Rimandare Indietro La scatamadre Perché era Sbagliata Cosa è successo Che questo mio Socio Ci ha lasciato Attaccato Le SSD E le RAM Minchia Ragazzi Il Il Casino Che ho dovuto Fare Per farmi Fare il rimborso Per spiegargli Perché non c'era Una casistica Che potesse Spiegare Questa cosa Cioè Io gli ho dovuto Cercare di far Capire Anche a un commesso Di Amazon Che non Non so neanche Cos'è un computer Che c'è la scheda madre Che io ho ridato Indietro Che era usata Tra l'altro Quindi chissà Dove cazzo è arrivata Che avevo attaccato Due RAM E un SSD Cioè Sono robe Che non so neanche io Momenti Cioè Ho un cesso Dopo un mese Ho concluso Queste trattative Tutta questa operazione E Ho Mi hanno fatto Rimborso Ho ricomprato Quindi non erano Neanche impostate Cioè tutto uno schifo Anche sto mio socio In pratica Non so come mi abbia fatto Il computer Minecraft Non me lo apriva più Cioè il computer Quando era incompleto Andava meglio Non lo so Cioè ragazzi Vado a dormire Io vi ho raccontato Quello che potevo Per ulteriori informazioni Scrivetemi in privato Ma io non ce la faccio più adesso Comunque ripartiamo Ci siamo In teoria tutto finito Finalmente è arrivata La mano divina Di mio cugino Vi voglio tanto bene Finalmente si rinizia E A fra poco Ecco che faccio i cazzati Ma porca Ecco che faccio i cazzati